Ciao a tutti da Podrack, bentornati qui su Autobahn Police Simulator Vediamo cosa vuole la tipa qua, che succede? Mentre eri in pattuglia avrai senz'altro notato dei telefoni di emergenza Sarebbe fantastico poterci fermarci e chiamarci così Dobbiamo dire se effettivamente funzionano Ogni anno riceviamo migliaia di chiamate Beh, allora teremo gli occhi aperti Ok, va bene, allora faremo qualche chiamata più avanti Ma non ci interessa per oggi perché ho visto qui C'è modo di avviare delle missioni E che fai? Le ne privi? Non le avvii? Le avviamo subito C'è incidente lieve, c'è incidente intermedio, c'è incidente grave Noi facciamo incidente medio Saliamo sull'auto e andiamo a vedere sto incidente In che cosa consiste, cosa dobbiamo fare Quindi partiamo subito con il nostro My friend, il ventilatore Il kebab E chissà che cosa starà dicendo Poderak A cosa si... Si sta rivolgendo Chi mi segue su TikTok lo sa E andiamo raga, saliamo sull'auto E andiamo A tutte le auto Chi si occupa di un tamponamento Non ti preoccupare Ci pensiamo noi Siamo i bro della... Dell'autostrada noi Andiamo alle sirene Quello non si stava fermando Ho capito Effettivamente ho lanciato le sirene un po' in ritardo Quindi avevo colpa io Autobahn Police Simulator Alla fine Non è un gioco malaccio Però speriamo mettano più missioni Per renderlo più attivo più possibile come gioco Adesso è una missione in teoria Neanche troppo difficile Dovrebbe essere un tamponello Un tamponello Un tamponello Però può sembrare tampone Poderak No, tampone... Un tamponato Un tamponamento Stai dicendo? Non lo so Ah, qua si sono tamponati Oh, Poderak Stavo per investire Allora Che è successo qua? Mannaggia Che è successo qua? Mannaggia Guarda qua Si è spaccato tutto Povero Shizun Lurbus Guarda L'hanno distrutto tutto Guarda qua Fai la foto Poderak Penso dovrò fare la foto Vero? Fai lo zoom Fai la foto Oddio Prima devo mettere in sicurezza Poderak Che dannazione a te Mannaggia Ma prima la sicurezza Poi le foto Mettiamo prima in sicurezza Dai Poi chiediamo ai signori qui presenti Che cacchi hanno combinato Per fare sto incidente Glielo chiediamo successivamente Comunque Abbasso ancora un altro po' La telecamera Così leggete anche voi Allora Apriamo qua Mettiamo i coni I coni Perché la sicurezza è prima di tutto Ok Sei coni addirittura Che è? Uno Due Ah perché sono tre corsie Due coni a corsia Bravo le auto che non si sono ancora incidentate Per colpa di Poderak Quattro Cinque E sei E abbiamo fatto Ok In sicurezza abbiamo messo in sicurezza Mo continuiamo con le foto Poi ci interessa quello che dicono gli altri Prima facciamo le foto per raccogliere eventuali prove Allora diventa verde Ma sei un Ecco Verde Perfetto E c'è qualcos'altro Da fotografare Pollice Cacchio è quello Mi sembra una bottiglia Una bottiglia Raga mi sembra una bottiglia questa Chi l'ha perso sta bottiglia? Chi C'è anche un telefono qua Telefono Ok E Un Bottiglia di Vodka Vino Non si sa bene cosa Ma Una domanda Signori e signore Ma Io la sesta foto A chi la devo fare? C'è la terza foto A chi la devo fare? C'è qualcos'altro Da fotografare qua? No Non vedo niente C'è un po' di roba Qui per terra Alt Qua c'è una marmita Sto a staccarsi la marmita Questa Facciamo la foto Della marmita Ecco la cosa Da fotografare Abbiamo fotografato Tutto Teoricamente Potremmo fare Una ricostruzione L'auto Qua presente Lateralmente Ha fatto Boom Aspetta Com'è che è inclinata Mi sembra Così Tipo Ok Un rottame E rottame Invece Prendi Rottame Come si prende Rottame Scusatemi Ok Perfetto Abbiamo fatto Le nostre analisi Possiamo chiedere Chi era l'ombriaco? Forse Ho perso La concentrazione A causa del cellulare Perciò Ho tamponato L'auto davanti Lo includeremo Nel verbale Questa sua onestà Resti nei paraggi Mi raccomandi Che voi E invece Che è successo qua? Mi hanno Tapponato Ulteriori possibilità Giubbotto Allora Aspetta Concludi la conversazione Aspetta A proposito di tutto Lui non ha Il giubbotto Neanche lei Quindi Contestiamo anche Questa cosa Osservazione Ha notato Ha notato qualcosa Di strano Nell'incidente Ok Lo verificheremo Lo sappiamo Ce l'ha detto La signora Giubbotto Mancante E allora Prima di tutto Anche la signora In teoria Non ricapiterà più Cioè Ma le basi Ma le hai fatte a scuola Guida le prese nelle patatine Signore A che velocità andava A 100 120 Non troppo piano Ha notato altro E 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 Allora Distanza Distrazione Ulteriori possibilità Allora Giubbotto Catilinfraggente E mancante Prima di tutto La prossima volta Tutti Siete tutti bravi La prossima volta Distanza Distrazione Hai pure bevuto La distanza Pg Vedo Altre domande Telefono cellulare Vabbè Trovava per terra Che appartiene Subita Ma se stava detto che Ha detto che stava parlando Al telefono Esatto Ma chi è che beve Chi è che ha bevuto Raga C'era una bottiglia Di vodka Qui qualcuno È ubriaco Qui qualcuno Ubriaco Cioè in teoria Andrebbe a Stato Ma che roba Non ho capito io Come funziona Sto Metti in sicurezza La scena Dell'incidente Abbiamo finito Teoricamente No Teoricamente Abbiamo finito Parliamo con il tipo La va Il nostro Maresciallo Ah qua c'è anche Un telefono Che possiamo Teoricamente Provare E la tipa Ci aveva detto Scusi Puoi provare Se funziona Fox 1 Anche questo telefono Molto bene Quello è una delle cose Più importanti Perfetto Ok Ok Funziona Un telefono Allora Finisci Di prendere Dati Sul Ok No 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 Allora Diciamo che abbiamo finito Sì C'è di mezzo Un cellulare Chi guidava l'auto Dietro Era il telefono E non prestava attenzione Beh Abbastanza scontato Ce l'ha pure confessato Speriamo che abbiano imparato Qualcosa Anche se dubito Ma la missione è andata bene C'era una bottiglia Però questa bottiglia Alla fine Non Non era di nessuno Vabbè abbiamo acquisito XP raga Ottimo Abbiamo finito Va bene raga Abbiamo fatto Questa missioncina Per capire un po' Che cosa Accadeva Spero che il video Vi sia piaciuto Se così lasciate tanti mi piace Iscrivetevi al canale Se non volete perdere I prossimi video Su Autobahn Police Simulator E noi ci vediamo Alla prossima Ciao